La procedura guidata è lo strumento più semplice per ottenere risultati anche senza specifiche competenze SEO e permette di risettare alcune o tutte le impostazioni di Ranking Coach. Noterai che in ogni sezione del menu delle impostazioni del tuo account di Ranking Coach, all'interno di ogni scheda, c'è un'opzione di procedura guidata. Ognuna di esse ha scopi diversi e copre diverse esigenze che potresti avere. Il pulsante Procedura guidata nella scheda generale consente l'accesso a qualsiasi funzione non ancora impostata. Questo significa che se hai completato l'onboarding generale, ma non quello di motori di ricerca, per esempio, verrai automaticamente portato lì. Quando si utilizza questa opzione si potrebbero perdere dati e potrebbe influenzare i progressi già compiuti. Non preoccuparti, cliccando su questo pulsante si attiva sempre un pop-up di avviso e dovrai confermare la tua scelta per poter procedere. Il pulsante della procedura guidata nella scheda motori di ricerca ti porta di nuovo all'inizio del processo di onboarding. In questo modo potrai reimpostare le informazioni della tua azienda, del tuo settore di attività, dei concorrenti e delle parole chiave. Questa è un'opzione perfetta se hai avviato il tuo sito web da zero e vuoi ottimizzarlo di nuovo da capo.